Contate su di me, ma realmente non è un saluto di circostanza il mio. Mi dispiace che oggi ulteriori impegni, sosseguendo anche le elezioni in Umbria, si vota, spero per il Centrodestra e per Forza Italia, il 27 di ottobre. Ma non divaghiamo. Voglio salutare l'amico Righi, il nuovo presidente Baccarini, tutti gli amici, gli agenti della FIAIP, di Confassociazioni, che svolgono una funzione molto importante a presidio e a tutela del mercato immobiliare. Abbiamo combattuto insieme nel Parlamento e nel Paese forme di concorrenza sleale, forme di vera e propria illegalità che devono essere sanzionate perché chi gestisce il patrimonio immobiliare deve offrire a noi cittadini, al pubblico, a tutti, una garanzia di professionalità di cui voi e la FIAIP in primis sono sicuramente garanti e certificatori. Ma al di là dell'amicizia e del saluto e delle occasioni di incontro che spero si potranno rinnovare presto tutti insieme, come abbiamo fatto a Roma, a Firenze, altrove, io voglio anche dire che il mercato immobiliare va tutelato. In Italia abbiamo una tendenza a un abbassamento del valore degli immobili, diversamente che nel resto d'Europa, perché troppe tasse, una gestione invasiva del patrimonio immobiliare ha causato una penalizzazione. Il patrimonio immobiliare è il risparmio delle famiglie, gente che continua a pagare mutui e che a volte anche se è reddita un'abitazione familiare ha più oneri a volte che onori. E quindi non può essere un banco, ma il patrimonio immobiliare che già ha perso valore viene tartassato, i mutasi, tasse di ogni tipo, i rifiuti che poi in alcune città manco vengono raccolti. Si paga la tassa ma non si ha il servizio. Quindi credo che Forza Italia e tutti noi dobbiamo proseguire una battaglia come quella che abbiamo fatto sulla cedolare secca per le locazioni commerciali, che deve diventare permanente e non a tempo. È un alleggerimento complessivo della pressione fiscale. Chi invoca la patrimoniale deve ammettere che la patrimoniale già c'è e sono le decine di miliardi che gli italiani che hanno casa, l'85% della popolazione hanno versato allo Stato e poi anche le tasse degli antilocali e tutto il resto. Quindi basta con questa che non è pressione, è oppressione fiscale. La perdita di valore danneggia il risparmio e la ricchezza che direi poi diventa povertà delle famiglie. Gli agenti immobiliari sono una garanzia per tutto quello che riguarda le transazioni, le vendite, gli acquisti, che mi auguro siano in ripresa ma che temo poi risentano di questa aggressione al mercato immobiliare, giù le mani dalle case. Viva la FIAP, in bocca al lupo, a tutti gli amici che l'hanno guidata e che continuano a esserne al timone e soprattutto al nuovo Presidente. Ci vedremo presto.